a un miglio circa dalle mura del Cremlino, dove sono stati arrestati in 250 poche ore fa tra gli oppositori, alcuni temerari forse, come Alexia e Navalny, che sul palco gridavano e promettevano. Costruiremo una macchina propagandistica universale, migliore del primo canale TV e anche nel più piccolo villaggio russo verranno a conoscenza dei misfatti di Putin. E ancora proseguiva l'avvocato 35enne, il blogger Navalny, promettendo tra sei mesi, quando si pronuncerà il nome di Putin, verrà in mente una parola composta da tre lettere. VOR. Cosa vuol dire VOR? Ladro, mi dice la scrittrice slavista Serena Vitale, benvenuta all'Infedele. E VOR, VOR, VOR hanno ripetuto i manifestanti. Saluto anche l'ex ambasciatore Felix Stanewski, che ci ha raggiunto da Mosca quest'oggi, bentornato all'Infedele. E mi collego subito con Ezio Mauro, direttore di Repubblica che ha trascorso anni di attività professionale come corrispondente da Mosca ed è tornato nei giorni scorsi. Ciao Ezio, mi senti? Ciao. Allora, hai fatto due viaggi. Un mese fa hai incontrato proprio Navalny, che tra poco ascolteremo anche noi, il cyberribelle, il blogger anticorruzione. Ma giovedì scorso tu eri nella dacia di quest'uomo che si è ripreso in pieno il potere sloggiando Medvedev che lo condivideva con lui. Mi racconti solo un attimo che cosa rischia un 35enne, un uomo come Navalny che ha gridato ladro nella piazza di Mosca a Putin quest'oggi. Navalny viaggia con l'arresto in mente. Mi ha raccontato un mese fa, all'inizio di febbraio, quando ho passato una giornata con lui, che hanno un codice con la moglie, che ripassano continuamente la chiave della macchina dov'è, il secondo mazzo delle chiavi di casa dov'è, dove è il passaporto. Cioè lui dice devi essere sempre consapevole che ti possono arrestare da un momento all'altro e devi essere sempre consapevole che l'arresto prima o poi arriverà. È molto singolare, ma mentre lui mi diceva queste cose io pensavo che erano le stesse parole che mi ripeteva Andrei Signaschi quando raccontava il periodo precedente, l'arresto suo e di Juli Daniel per aver pubblicato all'estero dei romanzi sotto pseudonimo. E Navalny dice tuttavia per quanto tu sia preparato il momento in cui sali su quel furgone è sempre un brutto momento. Devo dire però che il carattere di novità di questi nuovi rivoluzionari, come dicevi tu prima, è in un tweet che ha mandato Navalny poco fa e dice sul furgone c'era un mondo diverso. Sul furgone uno muoveva con le mani una sigaretta elettronica, l'altro parlava con Skype con la moglie e io cercavo di spiegare al poliziotto che era davanti a me e che mi aveva confessato di aver votato Zirinovski e non Putin, cercavo di spiegargli la realtà degli scandali del gas e del petrolio. Allora io voglio naturalmente ascoltare da Ezio Mauro il racconto della sua visita alla Dacia di Novo Ogorevo, la lussuosa e segretissima residenza di Putin settimana scorsa. Ma mi sembra giusto cominciare dando voce a lui che in questo momento è sottofermo insieme ad altri 250 oppositori a Mosca. Alexei Navalny è stato raggiunto ieri da Cristina Giuliano per noi e per TM News. Ascoltiamo le sue parole. Non possiamo chiamare elezioni ciò che sta avvenendo. Si tratta piuttosto di una procedura con la quale Putin vuole proclamarsi imperatore, zar. Sicuramente non sono elezioni. La Russia sarà un paese con a capo una persona che si è presa il potere, un presidente non legittimato e certamente non si potrà più dire che la Russia è un paese democratico. Ci troviamo al centro Rosvibari, il centro di osservazione delle elezioni che abbiamo organizzato. Qui confluiscono i dati che ci inviano i nostri osservatori dai seggi e non solo i nostri. Ogni candidato ha i suoi osservatori, anche Golas e altri progetti indipendenti hanno i loro. Qui raccogliamo i dati di tutti, li controlliamo e li diffondiamo attraverso i canali di informazione. È stata difficile portare la protesta dall'online all'offline, ovvero in piazza? Non è stato difficile, non lo abbiamo fatto noi, l'ha fatto Putin. La gente è scesa in piazza non perché io l'abbia chiamata, ma per protestare contro l'umiliazione subita dopo i brogli alle elezioni precedenti. Le autorità hanno continuato a dire che si era trattato di elezioni oneste e Putin, sprezzante, ha usato nei confronti della gente che protestava toni offensivi, chiamandoci scimmie o cose del genere. Lei non ha mai paura? Chiunque in Russia si dedichi ad un'attività indipendente deve essere consapevole dei rischi che questo comporta. Se hai paura è meglio che lasci perdere, io non ho paura. È difficile raccontare le proteste russe in quei paesi dove gli interessi politici ed economici, in particolare energetici, coincidono con gli interessi di Putin? Siamo preoccupati del fatto che il sistema creato da Putin non fa altro che dilapidare il denaro che arriva al paese dal gas e dal petrolio. I legami sospetti di Putin e del suo clan, con certi politici in Germania e addirittura in Italia, ci preoccupano. Spero che ora, dopo i cambiamenti politici in Italia, non vedremo più quella sconveniente alleanza tra l'establishment italiano e quello russo corrotto. Come scegliete le persone che lavorano per voi? Qui da noi lavorano esclusivamente volontari, persone che credono fermamente in ciò che fanno. Devono essere volontari, avere il giusto orientamento ideologico e devono essere dei professionisti. Ci può spiegare il simbolo di Ross Vibori? La telecamera serve per filmare i broggi. La calcolatrice è indispensabile per contare i voti. Questo segno è quello che dovrebbero apporre gli elettori, ma purtroppo lo mettono i membri della commissione elettorale. Si prova una grande ammirazione per il coraggio di quest'uomo.